Un paro puntato sull'Afghanistan, sulla necessità di mettere in campo iniziativa il sostegno delle donne afghane, ma anche, devo dire, tenere viva l'attenzione sulla questione afghana, che è una questione che ci ricorda che i diritti non sono mai acquisiti per sempre. Purtroppo questo è un dato oggettivo, un dato oggettivo anche nell'estero Europa. I diritti, alcuni valori democratici non sono acquisiti per sempre, quindi una battaglia va sempre messa in campo. Io credo sia importante, dentro questo ragionamento, che cerca di far avanzare la società, far crescere la società, quindi crescere i diritti, crescere valori di convivenza forti anche nelle nostre comunità, anche in quartieri difficili come questo. Dentro questo ragionamento, le cose che si sono dette prima sul lavoro che stanno facendo le associazioni, che si sono presentate a un lavoro molto importante, abbiamo già avuto modo di confrontarci con lei sul tema del carcere, e credo che ci sia un tema evidente di civiltà, che credo piano piano, nonostante abbiamo vissuto una fase in cui sembrava che l'unico obiettivo fosse quello di fare più carceri e poi buttare via le chiavi, mi pare che stiamo facendo passi avanti positivi la riforma del processo penale che abbiamo approvato l'altro giorno sul tema del carcere come estrema razio e non come l'unico modo in cui si sconta la pena, proprio perché rischia di alimentare solo recidività e anche insicurezza a un tema posto, incentivando tutte le misure alternative, rischi alternativi, conoscendo la giustizia riparativa che quindi coinvolge anche le vittime. Io penso che queste sono cose che fanno avanzare anche la nostra riflessione. E poi c'è il tema, ora io penso che sia importante che ci sia una rete di associazioni sul territorio, nella città che si occupano di non lasciare sole le persone in difficoltà, in questo caso le donne vittime di violenza. Deve essere chiaro che il loro ruolo è insostituibile, ma non è un ruolo che può sostituirsi a ciò che invece devono fare le istituzioni. Bisogna sempre più costruire una rete, una connessione, le cose che diceva Daniela rispetto a che diceva anche Santo, rispetto al tavolo, rispetto alla costruzione di una strategia comune che valorizzi tutte queste esperienze, è una cosa decisiva che si sta praticando, dobbiamo continuare a praticarla sapendo che c'è anche un problema di migliorare dal punto di vista legislativo, sia la prevenzione, o meglio, soprattutto la prevenzione dei femminicidi. E' vero che c'è da fare un cambio culturale evidente, dopodiché è altrettanto evidente che non basta quello che stiamo facendo per prevenire. Abbiamo fatto una legge importante, il codice rosso, deve funzionare meglio. Adesso stiamo introducendo alcune ulteriori norme per la formazione delle forze dell'ordine, perché non si ripetano i casi in cui una persona si è rivolta alle forze dell'ordine, è stato sottovalutato il problema, poi è stata vittima di femminicidio. Credo che ci sia bisogno di maggiore attenzione e di applicare fino in fondo la legge. Il cambio culturale serve anche a portare le donne a denunciare, perché sono ancora troppe quelle che non denunciano. E credo che abbia ragione Arianna sul fatto di dire che questo fenomeno è un fenomeno che attraversa la società al di là del livello di reddito, del livello culturale. Certamente nelle fasce più deboli della popolazione ci sono meno anticorpi e quindi è più possibile, se non probabile, che si arrivi a effetti drammatici. L'ultima cosa, il ragionamento sulla necessità di creare centri anche per gli uomini che praticano violenza e che siano anche uno strumento che la legge può utilizzare per prevenire i femminicidi, è un ragionamento che si sta facendo in diverse regioni su cui abbiamo ragionato anche facendo l'ultima riforma del diritto civile in cui ci siamo occupati di diritto di famiglia. È un tema che sicuramente va affrontato, è tutt'altro un tema peregrino, perché non è una guerra. È evidente che gli autori dei femminicidi hanno problemi che vanno affrontati, che possono essere affrontati e devono essere affrontati sicuramente dal punto di vista sicuritario, braccialetto, tutto quello che abbiamo detto, ma che devono essere affrontati anche andando a cercare, così come sempre, quando ci occupiamo di persone che commettono leati, il modo di risolvere i loro problemi e recuperarli dalla società, soprattutto per loro, a una vita migliore. Grazie Franco. Questo mi fa sintetizzare la risposta alla domanda che ce l'avamo fatti. nel senso che le istituzioni, anche attraverso il legiferare, ma non nel senso di inasprimento, perché sembra sempre che la soluzione ad un problema è alla fine ed è sempre un inasprimento di bene. Esatto. Invece tu stai dicendo che la legge può culturalmente ribaltare il pensiero partendo dalla prevenzione di quello che è l'effetto, senza trascurare anche, diciamo, l'effetto finale, ma che non sia il focus principale. La prevenzione è il tema. Primo, perché dobbiamo evitare che le persone muoiano. Secondo, perché molto spesso nei filmicidi gli autori si puniscono per primi, quindi credo che il tema della prevenzione è a tutto tondo, perché poi c'è anche un problema di sicurezza, di garantire, di tutelare le donne vittime, come però sia un tema, il tema su cui ci dobbiamo soffermare. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille, Franco. Concludiamo con il saluto. Io voglio ringraziare tutti gli amici che oggi, perché io li chiamo così, gli amici che oggi hanno partecipato